Quali sono i temi che sono evidentemente importanti per voi ma anche per i cittadini? Uno è la diminuzione di burocrazia e quindi quella richiesta forte che è stata fatta di unificare gli archivi esistenti, credo che sia solo l'Italia che ha una situazione di questo tipo e credo che voglia dire chiaramente lavoro in più per voi e costi in più per i cittadini. Secondo aspetto il fatto di arrivare a una carta di circolazione europea, ormai se ragioniamo in termini di integrazione almeno sulle piccole cose bisogna assolutamente procedere e nell'interesse di tutti noi quali cittadini vuol dire far scomparire costi non apparenti ma rilevanti perché a volte non si misura il tempo che è necessario per fare delle pratiche e sono sicuramente costi che si devono assolutamente eliminare. Ancora, quando vi è una pressione fiscale che non è compresa ma comunque che cresce oltre misura il gettito diminuisce. Il Superbollo ha dimostrato questo, se io guardo i dati della provincia di Milano non voglio annoiarvi su questo dandovi dei dati ma credo che voi lo comprendiate meglio di me, è chiaro perché l'avete vissuto, più cresce una tassazione va a finire che quel tipo di auto non viene più considerata oppure si paga una sola tassa su due auto, una se la si lascia in garage oppure ancora si trovano formule elusive per quanto riguarda l'utilizzo di queste auto. Anche qui è termino, bisogna anche prendere alcuni spunti dall'Europa positivi vengono, poi non è che questa Europa ci piaccia al 100%, ma alcuni spunti positivi vengono sta anche noi cercare di essere competitivi da questo punto di vista.